Il mio personaggio a un certo punto cerca questa sua identità in un personaggio smarrito, rappresenta una generazione smarrita e quindi si cerca la sua strada in politica, in un movimento di pancia, con la sua onestà pensa che basti l'onestà, ma in realtà l'onestà non è sufficiente per fare politica, è una competenza che lui non ha, quindi ingeguamente cerca in qualche modo di partecipare, di esprimere la sua opinione, anche nella cena finale tra loro tre, internet ha dato possibilità, ha dato libertà di espressione, quindi è un personaggio che sente in qualche modo che non ha mai avuto modo di esprimersi e questo un po' è rappresentativo di quello che stavano dicendo Gabriele e Pierfrancesco. Grazie. Grazie.